Una power prende le distanze sulla questione albano. Romina Power ha rivelato di essere nauseata e di non sopportare la banalità di quanto si scrive su lei albano. Romina Power prende le distanze dalle notizie sulla sua relazione con Albano. In un'intervista al giornale di Puglia, chiarisce ancora una volta come stanno le cose con l'ex marito. La cantante ha rivelato di essere nauseata dall'avidità di certa stampa e tv che dà un'immagine distorta di lei e della sua essenza. Il gossip che è stato montato intorno alla sua vita per lei non è altro che un tentativo di alimentare il lato morboso e superficiale del genere umano per guadagnare di più. Per Romina infatti è stata un'estate faticosa. I rumors su lei albano si sono triplicati da quando lui ha lasciato ufficialmente Loredana Recciso. Di certo la grande sintonia tra la Power e il cantante di Cellino San Marco, con tanto di baci e tenere abbracci sul palco, ha fatto crescere la speranza di poter vedere riunita l'ex coppia che peraltro è stata recentemente vittima di una truffa. Romina con grande classe ha smentito la possibilità di un matrimonio bis e ha cercato di stare alla larga dal gossip. Ne sto lontanissima, ha precisato, irritata dalla superficialità intrisa di banalità con cui si scrive su di lei. Nel suo futuro le piacerebbe pubblicare un album di inediti con Albano, ma forse dovrà aspettare, perché lui è stanco ed ha bisogno di riposarsi. Intanto si gode il suo ruolo da nonna. La figlia Cristel Carresi ha dato alla luce il primo figlio, Kai, qualche mese fa. È proprio bello essere nonna perché io adoro i bambini piccoli ed essendo mio nipote, lo posso tenere in braccio quanto voglio. La figlia Cristel Carresi ha dato alla luce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.